Ben ritrovati immaginativi, oggi ti racconterò dei microfoni lavalier, questi piccoli microfonini che si nascondono nel bavero della giacca o nella scollatura della maglietta. Se segui questo video ti dirò tutto quello che c'è da sapere per iniziare e ti assicuro che ascoltarti sarà molto più piacevole. Fa il titolo, iniziamo. Chi segue la pagina Facebook di Immaginativi da un po' conosce il mio pallino per i microfoni esterni, in particolare per questi che sono pratici, economici e funzionali, perché utilizzarli? Primo, perché se quello che è da dire è importante, fai in modo che le tue parole si sentano bene, senza eco e senza rumore di fondo. Secondo, sono molto piccoli e se ben nascosti nei vestiti praticamente non si notano. Terzo, sono economici e quindi invetano alla sperimentazione, perché provare non è un grosso investimento. Ora ti spiego gli elementi fondamentali. Questo microfono è della Rode ed è pensato per smartphone e laptop. Quest'altro microfono invece è della Boia ed è pensato principalmente per macchine fotografiche, in particolar modo per le macchine fotografiche professionali e puoi capire meglio perché. I link li trovi in descrizione. Il microfono. Questo è il microfono. E questa invece è la copertura antivento, che non è necessaria se registri in interno, invece è molto utile se registri in interno, soprattutto in un luogo ventoso e anzi esistono anche delle coperture un po' più professionali. La molletta. Le mollettine funzionano esattamente come delle normali mollettine dei panni. L'alimentazione è invece un altro punto di differenza fondamentale tra i due. Lo Smart Love della Rode è pensato appunto per apparecchi che forniscono autonomamente energia all'ingresso mini jack. L'M1 della Boia ha invece un piccolo alimentatore dotato di batterie perché appunto spesso le macchine fotografiche, soprattutto quelle di gamma alta, non forniscono energia elettrica all'ingresso mini jack. Cavo. Lo Smart Love ha solamente un metro di cavo, quindi per un'inquadratura normale a mezzo busto dovete acquistare una prolunga, mentre invece l'M1 della Boia in dotazione ha già 6 metri di cavo e quindi è possibile allontanarsi dalla fotocamera, come in questo caso. Quando acquisti un microfono non è già montato, ci sono alcune operazioni da fare che ti mostrerò in questo momento. La prima cosa da fare è agganciare il microfono alla molletta. Questo è come si fa per il microfono Smart Lab della Rode. È necessario agganciare il microfono e poi far passare il filo nell'apposita asola. Per il microfono M1 della Boia è necessario fare pressione del microfono sulla molletta finché non si sente un click. E poi io faccio personalmente girare il filo attorno alla molletta. Perché è utile fare questa cosa? Perché nel caso in cui il microfono venga accidentalmente strattonato, il doppio giro o il passaggio nell'asola ammortizza i colpi. Lo spinotto mini jack va inserito nell'apposito ingresso. Tengo a sottolineare che lo standard è ampiamente diffuso e condiviso. Esistono però alcune case produttrici che hanno degli ingressi proprietari. Questo è valido sicuramente per tutti gli apparecchi della GoPro, Olympus o AMD e sicuramente ce ne saranno degli altri. Come agganciare il microfono? Il microfono va agganciato a circa 20 cm dalla fonte sonora e quindi dalla bocca. Meglio se in posizione centrale, se tu pensi di parlare rivolto verso il davanti. Orienta il microfono verso il basso. Questo perché alcune parole e soprattutto alcune lettere possono causare uno spostamento d'aria violento che causano dei picchi di intensità fastidiosi ad ascoltare. Il microfono cattura comunque l'audio a 360 gradi perché è omnidirezionale. Come muoversi quando hai un microfono agganciato al bavero della giacca o alla scollatura della maglietta? Ne devi tenere conto nei tuoi movimenti. La prima fonte di disturbo è sicuramente il rumore prodotto dai tuoi vestiti quando sfregano sul microfono. Per esempio così. Se dovesse succedere questo rumore è impossibile da togliere con qualsiasi programma di post produzione perché appunto i tuoi vestiti sono quanto di più vicino ci sia al microfono. Sei comunque agganciato a un filo. Quindi se muovi il filo questi rumori interferiscono sulla qualità del segnale del tuo audio. Terzo il microfono omnidirezionale cattura l'audio a 360 gradi ma è ovvio che se io allontano la mia bocca, la fonte sonora dal microfono il livello dell'audio subisce delle variazioni. Quindi dovrò evitare di girarmi molto in questo senso oppure parlare rivolto verso l'alto. In questo caso l'audio viene registrato ugualmente però è chiaro che ci sono delle variazioni nel segnale. Siamo in chiusura. Commenti, suggerimenti, domande sono sempre ben accetti. puoi lasciarli qua sotto sulla pagina facebook o scrivendomi una mail come preferisci. Qua di fianco se ti iscrivi alla mia newsletter riceverai la mia mini guida Crea il tuo set tv dove troverai altre indicazioni interessanti e utili sui microfoni. Per il momento ti saluto, alla prossima!